L'etologia nasce a cavallo delle due guerre mondiali e si promuove come disciplina che studiando il comportamento animale spiega in maniera efficace il comportamento umano, qualche volta insegnando anche come curare le malattie mentali o comunque come riflettere sui nostri comportamenti. In questo gioco degli specchi, in cui l'etologia ha fatto ritrovare l'animale che è nell'uomo o nel bambino neonato, ma anche le capacità umanoidi che molte specie animali hanno di curare i loro piccoli, di provare sentimenti, qualche volta passioni, c'è il problema anche delle malattie e delle malattie su base psicologica, psicobiologica, tipicamente i disturbi dell'alimentazione. In moltissime delle malattie che affliggono l'umanità del terzo millennio affliggono in maniera estremamente simile anche specie animali che in natura o in cattività soffrono delle stesse condizioni. Un'alimentazione errata porta a obesità. Se questo in natura si verifica poco, soprattutto perché un animale obeso diventa un animale lento e quindi è un animale che più probabilmente non sfugge alle cacce dei predatori, o perché un animale obeso spesso lo è per ragioni di tipo infettivo, organico, per le quali poi comunque muore dopo breve tempo. Gli animali che vivono a più contatto con l'uomo, soprattutto quelli che abitano le nostre case, presentano le stesse nostre vicissitudini di patologie alimentari. Il caso più tipico di tutti sono quelli del cane e del gatto che sono entrati nelle nostre case e che condividono con noi giole e dolori di una vita spesso urbana dove il moto fisico è molto ridotto. Gli animali sono iperalimentati perché spesso i loro accuditori umani lo sono altrettanto e leggono come una tristezza del soggetto animale il fatto che l'animale non mangi. Ma soprattutto i cani e i gatti tendono a sovralimentarsi perché vivono questa solitudine terribile dell'essere, soprattutto quelli che vivono in un appartamento completamente abbandonati e sfogono in una sorta di stereotipia alimentare il fatto di alimentarsi. Questo succede anche negli animali, negli zoo e nei bioparchi. Hai poche cose da fare e quelle poche le fai in maniera eccessiva. È una vita di eccessivi agi che in fondo porta alla noia e quindi porta. Ma per quello riguarda il cane e anche il gatto, ma in particolare il cane urbanizzato, è l'ansia da separazione, questa attesa frenetica del rientro del proprietario umano in casa che porta a mangiare in maniera compulsiva, anche perché questa cerimonia di essere nutriti è una cerimonia in cui si sta insieme e in questo branco immaginario del lupo ancestrale in cui stare insieme è un valore importantissimo, è una grande gioia della quotidianità, chiaramente l'alimentazione diventa un motivo di comunicazione, fatto peraltro classico anche in alcune famiglie, soprattutto del centro-sud italiano. Questo porta a dei consumi straordinari di antidepressivi per cani e gatti. Il Prozac ha un grosso mercato di tipo veterinario, almeno per i cani, e porta ad altre distorsioni. Per esempio, l'umanità a caccia di farmaci contro l'obesità, l'umanità ricca, non l'umanità povera, ha creato dei topi obesi geneticamente tali per inventare dei farmaci contro l'obesità, ma spesso il farmaco contro l'obesità funziona nel topo, ma non funziona nell'uomo, perché molto molto spesso crea nausea e quindi non può essere poi somministrato al paziente umano.